Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 16 dicembre 2016 questa è la rassegna delle 7.30 del mattino buongiorno naturalmente anche a coloro che ci seguono nel corso delle repliche durante tutta la mattinata allora cominciamo dal santo del giorno oggi è una santa imperatrice è santa dell'Aide imperatrice appunto che è nata nel 900 ve lo dico subito 931 sposò pensate a 16 anni sposò a 16 anni l'Otario II di Provenza il sole è sorto le 7.35 tramonterà le 16.32 il tempo previsto per la giornata di oggi cielo nuvoloso con banchi di nuvole basse non si escludono brevi ed isolati fenomeni più probabili nel pomeriggio a ridosso dei rilievi meridionali il limite delle nevicate sarà attorno ai 1000-1200 metri le temperature sono in lieve diminuzione nei valori minimi per la giornata di domani sabato 17 dicembre ancora cielo nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo attenzione alle nebbie alle gelate mattutine in particolare nei fondovalle così come domenica avremo cielo poco nuvoloso con probabile copertura aumento della copertura del nuvole dalla tarda serata le temperature sono in diminuzione nei valori minimi per quanto riguarda i prossimi giorni condizioni di tempo stabile sulle marche nella giornata di lunedì a cui farà seguito un peggioramento del tempo e un ulteriore calo delle temperature allora diamo un'occhiata ai giornali cominciamo dal Corriere Adriatico questa mattina piano per l'alerta sicurezza il centro storico di Pesaro sorvegliato speciale c'è stato un vertice in prefettura lo vedremo tra poco stretta sui controlli con posti di blocco, presidi e personale in borghese a centro pagina però la copertina è dedicata tutta al mister, al tecnico biancorosso della Vis Pesaro che è stato ospite della redazione pesarese del Corriere Adriatico Sassarini ecco come è nata la mia Vis forum con l'allenatore che sta facendo innamorare i tifosi e se quelli della Vis sono innamorati del suo allenatore che gli sta regalando tante belle partite tanti bei risultati quelli del Fano sono divisi e spaccati a metà su Gabellini che ha già detto il Presidente che lascerà a fine stagione la sua squadra il Fano che gestisce da circa sei anni i tifosi si spaccano dicevo dopo che il Patron ha ventilato l'addio in curva ora ci sono posizioni opposte gli ultra sono con il Presidente mentre i Panthers dicono per noi può andarsene anche subito andiamo sulla pagina di Fano invece adesso del Corriere Ruggeri parliamo di aeroporto poltrona da 500 euro al mese l'aeroporto vola basso aspettando l'Enac primo incontro tra l'ente nazionale per l'aviazione civile e gli operatori della Fano in fortuna domani si replica 5 stelle insistono per avere chiarezza serve una commissione consigliare di indagine poi la notizia buona che per quanto riguarda la viabilità il tratto della Fano Grosseto quello interessato dai lavori è stato riaperto a tempo di record perché ricordo un comunicato che diceva che sarebbe stata riaperta questa arteria soltanto il 22 di dicembre poi grazie un po' alla pressione anche del Comune e dei commercianti che hanno chiamato più volte perché si riaprisse soprattutto lo svincolo di Bellocchi in direzione mare e sono stati riaperti dunque l'autostrada adesso la superstrada è percorribile in entrambe in entrambe le direzioni assalto alla banca c'è questo rapinatore Bebi in effetti 19 anni sono pochissimi in questo momento in carcere a Pesora è sotto Torchio dopo il primo arresto Lampo e caccia al resto della banda determinante è stata l'auto ritrovata nella zona di Falcinetto stiamo parlando della rapina che c'è stata la BCC di Fano nella filiale di Lucrezia sulla sanità mossa ad arte Minardi può aiutarci lo sostiene Bacchiocchi del Partito Democratico che attacca Gambini e torna sull'ospedale unico a Chiaruccia sull'ospedale unico e lavoro questi sono i temi caldi la battaglia politica continua l'investimento al cimitero dell'Ulivo mette d'accordo seri e ricci bene comune fiducia a termine per i 5 stelle Giuliani oggi sostegno ma alle prossime elezioni potremmo anche correre da soli Turismo cercasi identità fanese sul web gli inglesi ci ignorano operatori a confronto presenza in aumento ma all'estero la città di Fano non ha nessun tipo di appeal il destination manager che ha partecipato ieri al convegno sul turismo interessante convegno sul turismo che c'è stata la memo di Fano dice si deve aumentare la notorietà di questo territorio poi c'è Gabriel Garco sul Corriere che si è innamorato del nuovo museo Gabriel Garco lo vedete qui con a fianco il sindaco Seri dicevo che si è innamorato del nuovo museo sulla via Flaminia è andato a far visita mentre c'è questa iniziativa una nuotata per la vita Ladini Salvalai il cui ricavato andrà a Teleton iniziativa che parte stasera da stasera a domenica una staffetta lunga 48 ore ci saranno anche dei campioni dei campioni dello sport poi andiamo sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico perché Matteo Ricci e 5 Stelle la sfida dei 900 giorni domani il sindaco dà appuntamento alla pescheria per tracciare un primo bilancio di metà mandato ma i grillini cercano di giocare d'anticipo e organizzano hanno organizzato per questa sera un'assemblea pubblica sempre sullo stesso tema ma chiaramente con visioni diverse rispetto a quelle che avrà e presenterà il sindaco di Pesaro da una parte i progetti del comune dall'altra le criticità sollevate dall'opposizione poi la rivolta degli ex sindaci stiamo sempre a Pesaro strappiamo le tessere della CGL iscrizioni strascichi post referendum Aldo Amati e Martino Panico e Borri non rinnovano le tessere eccole qua i due protagonisti Amati e Panico poi sotto sempre sul Corriere Adriatico la pagina di Pesaro sull'incompiuta a Vismara Erap concluderà i lavori Biancani dice il cantiere partirà subito a gennaio il palazzo a Emomino posti di blocco e presidi l'abbiamo visto in apertura ma ci torniamo un attimo è importante posti di blocco e presidi contro furti e rapine c'è stato questo vertice in prefettura a Pesaro con le forze dell'ordine centro e periferia saranno sorvegliati speciali personale in borghese controllerà i luoghi di maggiore afflusso insieme alle banche e alle poste e ai centri commerciali poi carabinieri colpi e arresti lampo catturano i ladri e restituiscono il portafoglio ad una pensionata che tra l'altro non si era neanche accorta di aver subito un borseggio la settantenne era stata derubata al supermercato la coppia fermata da genero e suocero ha patteggiato questa è la notizia che troverete sulla pagina di oggi del Corriere Adriatico adesso andiamo invece sul resto del Carlino vi presento il Carlino presenta il nuovo primario di chirurgia a Pesaro eccolo qua la fotografia è qui vedete molto giovane ha 43 anni si chiama Alberto Patriti ed è un giovane esperto di robot raccoglie la difficile eredità di Costantino Zingaretti Patriti dovrà sviluppare l'attività video laparoscopica e le tecniche mini invasive premendo nello sperimentare le nuove tecnologie i dettagli dell'incarico sono ancora da definire li spiegheranno in una conferenza stampa il direttore generale Maria Capalbo insieme al governatore Luca Ceriscioli il prossimo 23 dicembre per fare il bilancio di un anno di attività la pagina di Fano del resto del Carlino invece è sull'aeroporto rivelazioni sciocca Ruggeri chiarisca lui dice io guardo avanti dopo le relazioni di la relazione di Belli anticipata dal Carlino 5 Stelle si rivolgono al neoamministratore la gestione opaca si conferma la gravità dei nostri interrogativi il convegno invece sul sul turismo Fano è una città che non strapiace l'esperto boccia le strategie fin qui adottate i dati sono negativi il 72% dei visitatori esprime sulla città un giudizio neutro né bella né brutta in sostanza e gli stranieri praticamente in città non esistono poi sul fisco che giustamente il Carlino definisce vampiro oltre alla crisi anche troppe tasse ma va voi a Pesaro siete messi male parla l'esperto nazionale della CNA che dice rispetto alla provincia di Sondrio che è la prima in classifica Pesaro non ha un carico fiscale o meglio Pesaro ha un carico fiscale di 9 punti addirittura superiore la provincia e anche quella messa peggio all'interno della regione questa è la drammatica ma che poi non è neanche una novità analisi del responsabile fiscale della del responsabile fiscale nazionale della CNA Claudio Carpentieri che ha esordito così davanti agli artigiani a Pesaro non siete messi bene ha detto proprio così erano presenti anche Palmi Rucchielli e il vice presidente della CNA Lucia Pierleoni andiamo sull'altra pagina del resto del carino guardate questa fotografia che chiaramente è un fermo è un fotomontaggio nel senso che cerchiato lo faccio anch'io ve lo cerchio anch'io eccola qui ecco qua questa è un'opera una scultura adesso allarghiamo per farvi leggere il titolo è una scultura che questo artista l'artista Lugli Roberto Lugli voleva regalare al comune di Fano ed è una scultura da piazzare come vedete nella rotatoria provinciale che sta all'ingresso della città a sud della città vedete dove c'è il ponte Metauro ebbene le autorizzazioni ci sono però l'amministrazione insomma sta tergiversando famelina e adesso lui che fa l'artista Lugli che voleva appunto regalarla ora chiede 150 mila euro di danni insomma contro quella che chiama lui la silente e gommosa amministrazione seri evidentemente immagino io questa scultura non piacerà a qualcuno anche se è donata ma visto che tergiversano tanto ma insomma passaggi festival invece un'altra bega questa volta per Marchegiani perché passaggi festival è stato inserito già nel programma degli eventi che sono stati presentati qualche giorno fa in anticipo in largo anticipo rispetto agli anni scorsi però passaggi festival la notizia è che si sta in realtà guardando intorno cioè sta guardando dove potrebbe fare questo festival quindi non è dato per scontato che si rifaccia a Fano come è successo gli organizzatori non hanno infatti ancora deciso quale sarà la città ospitante ma questa iniziativa come ho già detto è già stata inserita nel cartellone fanese a questo punto Marchegiani però che è solitamente molto pacato anche nelle risposte nelle repliche eccetera questa volta è un po' agitato e giustamente dice io voglio certezze convocherò subito un incontro di giunta perché noi abbiamo raddoppiato il finanziamento gli abbiamo dato la piazza facciamo tutto quello che il management di passaggi ha richiesto insomma adesso che loro facciano i preziosi non mi sembra il caso ma quale business siamo in chiusura quale business dei rifugiati qui non arriva niente la denuncia di Casa Nazareth abbiamo una tassazione uguale a quella degli hotel non abbiamo né ricavi di alcun genere non abbiamo rette paghiamo 2000 euro di IMU e questo lo dice Giorgio Magnanelli pubblicamente il presidente di Casa Nazareth che pone la questione dell'assoluta freddezza del governo centrale e locale verso quelle associazioni come appunto Casa Nazareth che non hanno fini di lucro e che non percepiscono nessun contributo pubblico Marotta Unita la regione ricorre hanno paura i marottesi quelli che erano che adesso sono sotto Marotta di ritornare sotto Fano hanno paura stanno facendo di tutto per rimanere sotto Mondolvo stiamo scherzando ormai state pure tranquillamente là con Barbieri deve essere chiaro che i cittadini i cittadini di Marotta hanno già espresso con forza l'intendimento di non voler essere ulteriormente amministrati dal Comune di Fano e di voler superare una volta per tutte la triste storia della divisione amministrativa che tanti danni ha causato nel nostro territorio questo è il pezzo di chiusura appunto di Franceschetti c'è questa offensiva legale contro la sentenza del Consiglio di Stato è molto burocratica la cosa quindi insomma chi ha voglia chi è interessato può leggere riga per riga e segnarsi un po' tutti i commi le leggi e quant'altro perché insomma è una battaglia giuridica che serve per difendere appunto l'accorpamento pesarese l'accorpamento marottese non ho letto però adesso non ho letto le pagine della Valle del Cesano velocissimi perché siamo un po' in ritardo allora Valle del Cesano San Lorenzo in campo pedalando verso il Natale nella capitale del cicloturismo arrivano cento Babbi Natale guida d'eccezione sarà l'ex ciclista montanare questa è la pagina della Valle del Cesano poi la seconda ambulatorio gratuito siamo a Barchi Sadori presenta i servizi centro salute per dieci comuni il presidente prelievi a domicilio nel rispetto dell'Isee e poi l'atto d'accusa questa siamo a Senigallia che ha subito danni perdite anche di vite dopo l'alluvione terribile di qualche anno fa l'atto d'accusa della forestale l'alluvione era prevedibile in procura un faldone di 270 pagine calamità analoghe accadute anche in passato è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa Occhio giornali torna domani mattina alle 7.30 vi ricordo prima di salutarvi che è partito di fatto questa sera già ve li mostreremo all'interno di Occhio la Notizia il concorso dei presepi quindi se avete un presepe in casa in giardino in negozio ovunque mandateci due o tre scatti fotografici in uno di questi ci deve essere anche l'autore o gli autori dell'opera oppure un breve video massimo 30 secondi all'indirizzo presepi chiocciola fanotv.it presepi chiocciola fanotv.it è tutto grazie buona giornata